Allora, 36 montanare, 1 organo. Bene? Sì? Sì. Stai, saranno con la corda, stavolta. Stavolta sei le cose scusanti, eh. Dopo ti proprio te, eh. Potrebbe fare anche un po' molla quella corda lì, eh. Così me la tiri un po'. Chiamo? Sì. E livelli! Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.